Abbiamo depositato un'interrogazione che riguarda un problema che vive la città di Bolzano ormai da un mese e mezzo se non erro e riguarda l'hotel Alpi, quindi riguarda questa concessione che c'è stata tra Benco e il comune di Bolzano per l'hotel Alpi adibito come centro profughi. Cosa chiedete dunque nell'interrogazione? Nell'interrogazione chiediamo che venga reso pubblico il contratto scritto tra il comune di Bolzano e Benco perché sicuramente c'è un contratto scritto, niente viene dato per niente senza clausole o contratti scritti. Chiediamo che venga reso pubblico quello, chiediamo che venga resa pubblica la durata di tale concessione quindi per quanto tempo il centro di Bolzano, il salotto buono della città avrà questo centro profughi con tutti i problemi che ne derivano. Chiediamo di rendere pubblici i costi di questa struttura, i costi di mantenimento, i costi di ristrutturazione di questa struttura quindi che ci sono stati, che ci sono e che ancora si verificheranno. Chiediamo di presentare la regolarità del cambio di destinazione d'uso di questa struttura che prima era l'albergo e adesso non si capisce bene a cosa diventerà. Soprattutto vorremmo sapere se il fatto che Benco abbia concesso questa struttura al comune di Bolzano o comunque agli enti provinciali competenti cosa può comportare in cambio di altri progetti che riguardano Benco come il famoso progetto Benco della zona stazione. Grazie.